buongiorno buongiorno dal dottor claudio sarascino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi di cs vera e professionale con la v maiuscola ragazzi oggi parleremo di vivere liberi liberi dai limiti liberi dai problemi liberi dalle preoccupazioni liberi dalle paure liberi 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 e invece questa società purtroppo vive ingabbiata imprigionata rafforzando queste paure rafforzate dai poteri forti dalla pubblicità dalla televisione dai poteri forti in qualsiasi lingua colore paese in cui tu risiedi e la gente non è può più è stressata non per colpa propria non per colpa delle proprie radici ma per colpa della famoso sistema della famosa televisione ora come fare per liberarsi con l'ipnosi di cs vera e professionale e finalmente rendersi liberi come fare per liberare il proprio subcosciente il proprio pilota automatico che ci tene ingabbiati perché qualcuno lo ha condizionato lo ha plasmato plagiato a sua immagine e somiglianza perché quando noi siamo deboli il nostro subcosciente è debole e influenza la nostra coscienza il nostro corpo la nostra vita 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 visibile invisibile beh chi ne guadagna secondo te ne guadagnano i poteri forti perché i poteri forti il pastore vuole il greggio è debole manipolabile condizionabile per farlo spendere per farlo perché più forte è un soggetto più comanda più debole più comandano gli altri rifletti su queste cose non è parlare di congiura di qui si sta parlando scientificamente della propria mente del proprio subcosciente ora per liberarlo tu puoi utilizzare l'ipnosi di cs vera e professionale con diversi audio mp3 di cesa anche da solo da sola comodamente a casa tua seduta ti scarichi questi mp3 di cesa incompleto anonimato a qualsiasi ora della giornata e ti libri dalle paure dalla tristezza dal passato e anche da limiti psicosomatici che trovi nel corpo a causa di uno forte stress del passato negativo ma anche del tuo passato ti puoi liberare da tutto viste per favore il sito internet www.iproniciassociati.com e scoprirai tante tante sorprese tante novità che possono fare per te aggiungo anche per il tuo caro che non vuole aiuto che non vuole essere aiutato perché il metodo di ces di ipnosi di cs vera professionale funziona anche per chi non vuole il tuo aiuto o l'aiuto di altri oppure chi non può essere aiutato né da te né dagli altri come è successo mio padre nel 2008 quando fu colpito da un intus fulminante come al solito non credere nessuna parola del sottoscritto devi soltanto fare azione può giudicare sui fatti ok che dire ragazzi perché a scuola università in famiglia nel paese in città non si parla tanto di materia mentale di come funziona la nostra mente perché secondo te perché chi avrebbe interesse che tutta la società società fosse libera veramente libera spontaneamente libera nessuno va bene oppure vai presso un professionista dell'ipnosi vera professionale della tua zona che però abbia già affrontato casi come il tuo attenzione deve essere uno specialista della del tuo problema non un generalista perché anche il modo dell'ipnosi vera professionale noto molti generalisti perché importante qui oltre alla procedura al metodo come il mio al metodo di cesi che unico al mondo che proviene direttamente dallo seggio spieverils anche e soprattutto la suggestione la parola è fondamentale creata d'arte ad hoc che non tutti sanno creare purtroppo ok lo dice il sottoscritto che è partito da autodidatto ha fatti mille corsi conosco tutto di più nel mondo dell'ipnosi fino a sposare l'ipnosi di los angeles vera e professionale della dottoressa le nebroni del professor garai che mi ha cambiato letteralmente la vita in tutti i sensi immaginabili e possibili fammi tutte le domande del caso visita la mia fan page su facebook ipnosi auto ipnosi del dottor claudio saracino visita il mio sito internet www.iprolegi associati puntocom e iscriviti a questo canale youtube benessere i prossimi soluzioni dicesse dottor caldo saracino e fascia e condividi con amici e parenti perché può essere quel quid con la molla che gli può cambiare la vita casomai clicca sulla campanella per le novità qui in basso a destra del tuo teleschermo e poi seguimi anche su instagram e twitter benessere di prassi soluzioni dicesse dottor claudio saracino un bacio un abbraccio alla prossima ciò